Riccione riapre sabato 27 novembre il Cocoricò solo maggiorenne con Green Pass, la piramide fa subito sold out, la riapertura della discoteca Cocoricò fissata per il 27 novembre 2021, dopo tre anni di chiusura, tra il fallimento della precedente gestione e i risvolti legati all'emergenza Covid, era l'evento da segnare sul calendario in rosso per gli appassionati della discoteca Riccione, il popolo del Cocoricò, ha risposto con entusiasmo, in una manciata di ore i biglietti messi in vendita per la grande evento per la serata inaugurale del Cocoricò sono andati subito esauriti, messi in vendita online 5 novembre i ticket per entrare nel locale circa 1800 sono stati polverizzati in pochissimo tempo a testimonianza dell'alto tasso di euforia raggiunto dal popolo del Cocoricò, un ringraziamento ai social che hanno dato una mano per la pubblicizzazione dell'evento Peccato, biglietti esauriti e un emoticon con la faccina che piange postata sulla pagina del Cocoricò, sperando nel prossimo evento, ci scusiamo con le migliaia di persone che non sono riuscite ad acquistare il biglietto dell'inaugurazione ha scritto la direzione della discoteca romagnola sulla sua pagina Facebook purtroppo le norme anti-Covid ci impongono una capienza del 50%, nei primi giorni della prossima settimana sarà possibile acquistare il biglietto della serata di sabato 4 dicembre, un grazie immenso per l'affetto che ci avete dimostrato, la struttura adagiata sulla collina di Riccione debutterà sabato 27 novembre rinnovata sia negli interni che negli esterni, ammonta a 2 milioni l'investimento del nuovo patron del Cocoricò, Enrico Galli, già proprietario di un'altra storica discoteca riminese, l'altro mondo studios che con il gruppo dei Creaturens, all'inizio degli anni 80 avrebbe grande notorietà in tutta Europa la prossima settimana, ma il giorno è ancora da definire, verrà riaperta la piattaforma per acquistare i biglietti per la serata del 4 dicembre, poi se andrà avanti così di settimana in settimana con l'appuntamento sul web quasi fosse un click day per portarsi a casa l'ingresso al sabato sera nella piramide, per il 27 novembre i ragazzi, ma dovranno avere più di 20 anni, hanno pagato 35 euro mentre il biglietto per le donne, solo maggiorenni, è costato 20 euro, prezzi in linea con altre discoteche, ma questo non inganni perché sotto la piramide l'esclusività si paga, come accade nei locali più blasonati in Italia e nel mondo, è la parola prive a fare la differenza, al Cocoricò il termine è preso nella sua accezione pura, ci sono almeno quattro diverse situazioni in cui trovare tavoli riservati lontani dal passaggio, in alcuni casi persino le stanze da bagno sono riservate, si può godere della compagnia di una decina di persone in un tavolo affacciato sulla pista, in un'area interdetta chiunque, tranne i titolari del tavolo stesso, ma questo un prezzo e le cifre che stanno circolando variano tra i 1500 euro e il 1800 euro l'avere diversificato le zone prive e consentirà di vivere in modo diverso il locale a seconda della serata scelta, un sabato si potrà sedere comodamente affacciati sulla pista, quello successivo scegliere la sistemazione davanti alle ampie vetrate che guardano il mare e così via. Dopo che i biglietti acquistati in pochi minuti, il Cocorico svela i DJ che si esibiranno sotto la piramide per la grande riapertura del 27 novembre. L'apertura della nuova stagione vedrà come protagonista il set di uno tra gli artisti più importanti e riconoscibili della scena techno e os mondiale, il DJ e producer statunitense Seth Truxley, l'artista georgiana naturalizzata berlinese Salome e i nuovi DJ resident del Cocorico, Dioco, la giovane e talentuosa romana Matisa, è Mattia Trani uno dei DJ techno più interessanti del panorama. Si aggiunge inoltre l'eclettica Lela da Glasgow che suonerà nei prossimi appuntamenti. La nuova gestione che ha rilevato il locale, lasciato in uno stato di incuria dopo tre anni di inattività, restituirà al pubblico un club totalmente ricostruito e rinnovato sia negli interni che negli esterni, con impianti tecnici visual audio di nuova generazione. Due grandi novità saranno inoltre un'area riservata backstage o giardino estivo. Tutto ciò è reso possibile grazie all'impegno e all'investimento di 2 milioni di euro da parte dei gestori che hanno rimodernato completamente il Cocorico, creando un luogo con una struttura innovativa, che vuole tornare ad essere il punto di riferimento del club in italiano. Un grazie immenso per l'affetto che ci avete dimostrato. Seguite la pagina Facebook del locale Cocorico ufficiale e sul sito www.cocorico.it La curiosità è tanta che Enrico Galli, alla guida del nuovo Cocorico, potrebbe avere in servo delle novità prima ancora che si arrivi al 27 novembre. L'ipotesi è un'anteprima riservata solo su invito. Per saperne di più non rimane che seguire lo svolgere dell'evento Cocorico a Riccione.